Musica Siamo finito a 14 anni e frequento il primo anno di superiore Il fine settimana e per le occasioni dono uno d'aiuto in parrocchia Sono un chirichetto da quando avevo 7 anni E da quel momento è diventato un bellissimo appuntamento con Gesù E da bambino ho insistito per anticipare la mia prima comunione Perché non solo ero chiamato a servire ma anche a partecipare al banchetto con Gesù Dobbiamo sapere che Gesù è sempre con noi Partecipare a messa è una festa Osservando la croce immagino che Gesù ci accoglie a braccia aperte Ecco il mio invito a voi ragazzi Mettiamo da parte un attimo le comunicazioni social E accostiamoci all'egarestia Ricordando che Gesù è con noi Proviamo ad amarlo Ascoltiamolo e comunichiamo con il cuore Noi crediamo che è silenzioso Invece fa un gran chiasso nei nostri cuori Lui ci parla, non ci abbandona È sempre presente Ci invita a nutrirci del suo amore Il suo cibo e la sua bevanda Sono indispensabili per la nostra vita Significa entrare in sintonia con il cuore Lui è il nostro amico ed è sempre connesso Lui ci apre nuovi orizzonti per volare ad alta quota Nella nostra fede e della vita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti